Il drone di Telerama sorvola l'inferno del giorno dopo. Inferno di fuoco il cui l'ascito a due passi dal mare di Gallipoli si fa ancora più amaro e spettrale. Altri 15 ettari di macchia mediterranea sono stati ridotti in cenere questo lunedì mattina da un ruogo divampato nel territorio di San Nicola, comprobabile innesco dall'alto della collina. La natura è ancora al vaglio in queste ore e il dolo non è affatto escluso. Il bilancio intanto è già amarissimo. Questo paesaggio che vi stiamo mostrando prima delle 11 di lunedì mattina era rigoglioso tra macchia e campagna. Adesso è completamente ridotto in cenere e poteva andare anche peggio. A lottare contro il tempo e il forte vento, limitando danni ben peggiori, sono stati i vigili del fuoco e la protezione civile di Gallipoli, Aradeo e Galatone, oltre alle squadre Arif. 22 i lanci del Canadair che hanno consentito di circoscrivere il ruogo, che, lambendo la lecce Gallipoli e le abitazioni della zona, ha costretto a scendere in campo anche polizia, carabinieri, stradale e forestali. Questi 15 ettari in fumo si aggiungono ai 120 di pineta e macchia mediterranea che lo scorso 18 luglio furono divorati, sempre nella zona di Gallipoli, più nel dettaglio sul promontorio della montagna spaccata. Stando ad un premissimo bilancio estivo, è proprio l'Interland della città bella, quello maggiormente colpito dal fuoco in quest'estate 2023. Ma l'allarme incendi non molla la presa. Da Castro a Portobadisco, a Santa Cesare, a Ugento, San Cataldo, uomini e mezzi anche quest'anno non hanno avuto e non hanno tuttora tregua. E mentre la richiesta regionale, annunciata tre settimane fa di proclamazione dello stato di emergenza, pende dinnanzi al Consiglio dei Ministri, il salento brucia ancora, appeso al filo della speranza.